guardate questa meravigliosa scenografia di questi campi guardate il papavero mentre danza guardate laggiù in fondo dietro la pineta c'è il mare guardate queste marche di te c'è un tritotto di colori che meraviglia è una meraviglia delle meraviglie diciamo che questa qui è la classica non posso attraversare guardate 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 che meraviglia adesso in alto troviamo il borgo di castagneto carducci è meraviglioso semplicemente uno quasi quasi non ha parole dico tanta meraviglia veramente mi avvicino ancora un secondo da questa parte dove per appunto posso avvicinare i papaveri in tutto il suo splendore ma vabbè cosa dire cosa posso aggiungere è veramente bello tutto ciò che mi viene veramente oh un po' ancora vorrei piangere dalla gioia meraviglioso guardate la pineta si stenderà poi nei prossimi giorni credo che se è proprio proprio tutto vero inizieremo a vedere anche un po' la persona e allora io intanto con questa splendida margherita poi per scendere con questi fiori lì non so come si chiama il bianco di nuovo fioletto e tatatatam no aspettate che lo prendo di fronte sono meravigliosi amici io vi saluto sempre dalla Toscana e al prossimo video ciao ciao